Quindi le figurine, le commissioni, a comiglie, a kusube, vero? No, 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 a parte che sono carte, ragazzi, ripeto che le figurine sono diventate carte Dalla dimensione delle magic, ci saranno le rarità e poi... Poi non cambia niente, sono sempre 190 carte No, 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 è solo collezionismo, niente giochi Se volete vi faccio vedere la prima Stiamo facendo le prime tre Questa è una prova, ragazzi, è una prova di design Bisogna trovare il font, ancora trovare le forme giuste È solo per far vedere il disegno Tutti i prototipi Però, bene o male, qualcosa riesco a farvi vedere Questo è il soggetto della prima carta Bisogna metterci lo sfondo, rivedere tutto, gli elementi Ripeto, ragazzi, è ancora tutto in divenire Questa è la versione primordiale, proprio La versione embrionale Il soggetto è l'unica cosa definitiva Cioè, beh Banale, perfetto Il font non mi piace Vabbè, l'ho detto apposta, amore, dai Provo a ripetere Poi vi mando direttamente a fare in culo Il font Tutti gli elementi che vedete sulla carta di layout A parte il soggetto, cioè il mio disegno Sono da rivedere Sono prove, prototipi Perché prima di arrivare al definitivo si fanno 102.000 prove Buono Qui ci sarà, diciamo, solamente come è strutturata la carta Quello sì, quello sarà definitivo Ovvero, il nome qua Uno sfondo colorato Sono 10 sfondi colorati che alterniamo A seconda del personaggio Il mio logo ci sarà sicuramente E poi il flower text Cioè, la storia del personaggio che viene raffigurato nella carta Questo è il soggetto della... della... 9 Sì, della carta numero 9 Che è io versione Pandorable Cioè, boss Anche questo è da finire, è da definire Però, questa è la versione embrionale dell'artwork di... di... di me Pandorable Che rappresenta un po' tutti i boss Ho fatto un solo boss e mi sono levato il pensiero E questa è di Simone Peano Questa era di Emdi Questa è di Simone Peano E questa è di Fabio di Corletto Che ci ha fatto anche qui un layout Questo sono io, Y-Post Va colorato Ovviamente il layout non lo vedrete Ci sarà il layout definitivo che sarà comune a tutte le carte, eccetera, eccetera Sono solo prove Piano piano, piano, piano Ho voluto alternare Ho scelto questi tre artisti Più ci saranno delle guest Compreso Agnese Vi ho fatto vedere il work in progress C'è ancora tanto tempo Prima di arrivare a... Alla versione definitiva Sì, oggi sono stato tutto il giorno a pensare alle carte Allora, posso già darvi dei dati in più E finalmente farvi vedere le prime carte Non vi dico definitive Ma semi-definitive La rosa dei disegnatori è stata completata Vi dico i nomi Abbiamo Simone Peano Che è il creatore della sigla Insomma, dell'animazione pre-live, eccetera, eccetera Abbiamo Davide Che è il ragazzo che si occuperà Ebbene sì, ragazzi Delle statuette di plastilina Anche noi nelle carte della lore Abbiamo le carte con la plastilina Tipo la Mori Quindi abbiamo i modelli in plastilina Poi abbiamo Emdi, ovviamente Ilaria Catalani Grandissima disegnatrice Fabio Di Corletto Vabbè, penso lo conosciate tutti È il disegnatore della lore Quello che ha fatto le emoji Che ha fatto le prime illustrazioni Il banner Cioè, il primo logo E tutto il resto Poi abbiamo il mitico Paul Narenzo Che è un ragazzo Che ha fatto Già qualche cosa Per la lore Ma che ha uno stile più Passatemi il termine americano Più incazzoso Più tamarrone Ecco, mi piace a noi Più supereroistico Muscolare Muscolare, brava Poi abbiamo Walter Baiamonti Che è, tra l'altro, il ragazzo Maio Baiamonte Sbaglio sempre il cognome Poi Baiamonte Molto importante Poi lui si chiama Con vari pseudonimi Per esempio Nel gruppo Telegram Si chiama Gianfranco Futanari Fate voi E no Vabbè, una cosa in più Che vi ho voluto dire Che è il ragazzo Dilaria Catalani E che anche lui farà dei Che è il ragazzo Che disegna le miniature a Savacu Così almeno capite tutti chi è Poi c'è il Masella Che vuole ficcare sempre il naso In tutto E poi abbiamo No, no Gli minaccio ogni tanto Vi tengo d'occhio Stronzi, eccetera, eccetera Poi abbiamo Enrico Che è quello No Enrico è quello che fa i disegni Un po' più surreali Un po' più psichedelici Ed è perfetto Il nostro comiglia Ecco, del set Delle carte della lore E poi abbiamo il nostro designer Lucone Che è quello che Insomma Si sta Aspetta che qui è uscito Ci dovremmo essere quasi Vedere, vedere Il Masella orso È quasi Deve ancora rifinirlo Però Vabbè, è enorme Non è possibile Vabbè, questa non ve la posso far vedere Allora ragazzi È venuto il momento Di mostrarvi le prime carte Però, amore Non hai detto Che c'è Agnese Page 4 Che purtroppo Ha 27 contratti attivi Può fare solo un'illustrazione In un mesetto Un mesetto e mezzo Ma vuole talmente tanto Partecipare A questo set di carte Che ha deciso Di abbassarsi Il compenso Per prendere Quanto gli altri artisti Ovviamente per Blizzard Prende Tutte altre cifre Non ve le sto nemmeno a dire Assurde Ha deciso di fare Comunque il prezzo Di Emdi E tutti gli altri Quindi di abbassarsi Il compenso Per poter partecipare E fare questa carta Non vi dico che carta è Ma è una carta Davvero speciale E poi ci saranno Altre tante piccole guest Agnese ha fatto una carta L'ha finita poco fa Adesso vi faccio vedere Le prime tre carte Di prova Che sono state disegnate Da Emdi E da Simone Peano Vi do un po' di Di dritte Un po' di robe E vi spiego Perché le ho fatte così Insomma ci sarà da parlare Allora questa è la prima carta La prima carta in assoluto E infatti è la più normale Possiamo dire Cioè sono io La volevo così La volevo più statica Più normale Perché poi ovviamente Il set è tutta un'esplosione Di cazzate E robe assurde Quindi questa è la prima Ok qui c'è la rarità Ovviamente ho ripreso I simboli che c'erano in Pokémon Abbiamo stellina Stellina vuota Che sono le olografiche Ci saranno anche le carte olografiche Ora non so come dividere la rarità Ma è per farvi degli esempi Poi rombini E tondini Cioè non comuni e comuni Qui c'è il copyright E poi c'è l'illustratore Camdi Manca ancora la descrizione Dobbiamo trovarci il font Dobbiamo posizionarla Eccetera eccetera Volevo una carta Ovviamente non c'è Non ci sono regole Né mosse Né niente Quindi insomma È una carta puramente Basata sul collezionismo Ecco ci sta così Questo è il logo mio E ogni famiglia Diciamo così Ogni gruppone di carta Avrà un loghettino Diverso Questa ovviamente è la lore principale Poi abbiamo Per esempio Power avrà il suo logo Il logo di Power Cioè qui sicuramente si cambia sempre logo È l'attributo Il logo è l'attributo Troppi capelli Vabbè questo va bene Poi Seconda carta Che poi non è la seconda Che poi non è la seconda Ma è la sesta Dario Mocha Drunk version Cioè quando io La prendo un po' grossina In live E sono un po' così Particolare Questa è da rivedere Manca il tatuaggio La collanina Però bene o male Ci siamo Ecco la definitiva Ok Questa è sempre di Andy Abbiamo un'altra carta Questa invece di Simone Peano Che è Dario Mocha Angry version Cioè quando Mi incazzo Corgio Con quello che è E spacco tutto Ecco insomma Quindi Cioè la realtà Pallino Quindi la comune Però vediamo Tra l'altro Non so se avete notato Il Questa finezza Del laser Del mouse al laser Che viene sparato Tipo una meteora Veramente bravo Vabbè Simone Peano È mostruoso Poi ci sono tanti altri disegni Ora vi farò vedere poi tutto E Agnese ha fatto Il Dario Mocha Versione innamorato Le prime nuove carte Quindi la prima pagina Ci saranno solo versioni Di me alternative Me e me alternative E poi si passa Al resto La mini Agnese E poi piano piano Ci si allarga sempre più Con la lore Oltre alle carte Stiamo cercando di fare Anche l'album Ufficiale Dove potete raccoglierle Dario lo sai già Ma occhio al cambio di stile Non penso Mi vengano carabinieri a casa Però Sappiate che Tutte le carte Avranno stile diversi Io non so se lo sapete Ma In Magic Ci sono Quanti Quanti artisti A set 20 forse In Pokémon Idem Ovviamente Ogni artista Avrà il suo stile E ogni artista Giustamente si esprime Quindi Non ho capito Cosa Non lo so Devo stare attento Sto attento Carabinieri a casa Voglio farvi un piccolo sneak peek Perché questi saranno Gli altri due stili Che vedrete Probabilmente No Probabilmente Che vedrete nel set Questo è il Dario innamorato Non abbiamo ancora messo il layout È l'art Ovviamente l'artwork Che vedrete sulla carta Eccolo qua Questo è fatto da Agnese Questo è Io ho detto Ti prego Agnese Disegnami come mi vedi E mi ha Ora lo rispondo Va bene amore Va bene Comunque Questo è Dario innamorato Che sarà nella prima pagina E poi abbiamo Panetti E deve essere ancora colorato Deve essere ancora Ridefinito Però questo è Panetti Questo è un artista Che appunto C'ha questo stile Come vi dicevo prima Tutto Molto Psichedelico Drogherecia Panetti Perfetto Probabilmente anche Omi Lo affiderò a lui Vedremo 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 Insomma ragazzi Avrete un tripudio di stili Di carte sempre diverse Di pose assurde Ci metteremo Veramente Ce la metteremo tutta ragazzi Basta Andiamo avanti Chissà come sarà colorato Questo Secondo me Bello tosto Bello tosto Buono Per gli sfondi Ragazzi invece Ci saranno gli sfondi Non neutri Ma comunque molto minimal Ce ne saranno una decina Una dozzina Una quindicina forse Che alterneremo Sempre la seconda del mood Oh cazzo Quindi però Non ci saranno più le Eh no Perché con le figurine Hai detto che C'erano quelle componibili Invece le carte no Non è detto Non è detto Perché si possono comunque fare Se te concepisci bene Il numero del set Nelle pagine dell'album Puoi mettere due carte Accanto per formare un image Ah nel senso che Fai un'illustrazione Ah vabbè Tipo come quella Dei Pokémon al parco Sì Ti immagini Federico Che sboosta se stesso Secondo te Cioè faranno anche roba Su Ebay Tipo Faranno speculazioni Eccetera È quello che ti ho detto io Tu sei esperto Come funziona sta cosa Come nascono le speculazioni Come fa a nascere No ma non penso sulla lore Che fanno Mettono sabacuolo Per esempio Su Ebay Ho capito Però come fa Secondo te a nascere Una cosa del genere Cosa rende le carte Magiche Ho capito Ma un conto è magic Che fanno girare I tornei I soldi Ma le carte Della lore Di Dario Moccio Secondo voi Quale sarà la carta Di più alto valore Del set Secondo me X un'anima Cosa ridi Caverna con l'armatura Di cazzo Effettivamente Non c'è Tra l'altro ci denunciano Se si fanno roba Del genere Ah è vero cazzo No non ci sono marchi Niente Non c'è nulla Me l'hanno chiesto Il Cristo dottone Ma raga Non posso fare una carta Un Gesù Ovvia A Pantera c'è Sì c'è Tra l'altro leggendario A Pantera c'è Per forza Che edicola Ragazzi Non c'hanno mercato Da edicola Va praticamente Solo su di voi Le descrizioni delle carte Le farai tutte tu Sì sì Le faccio tutte io Le faccio tutte io Io ho visto quelle di Lion Sono stampate bene Però minchia Non mi piacciono Sono troppo vuote Scarne Poi citano Citano Minecraft Qui invece c'è varietà di stili E guns Cioè sono più semplici E sono semplici Ho voglia di essere calpestato Non so adesso Cosa c'entri volpe Però un po' tutti Abbiamo voglia di essere calpestati A proposito di art Oggi ragazzi Verranno spoilerate Le ultime carte Abbiamo spoilerato Troppo No no Non è vero Al mio gusto No in totale In totale con queste Sono sei carte Mase Su 200 Dai Ma non è vero iniziatela C'è spoilerate tutte Sei No no Non tutte Non tutte Non tutte Non tutte Vi faccio vedere Vi faccio vedere Per chi non fosse nel gruppo Telegram Poi basta Poi le dovete sbustare Le carte nuove Anche perché c'è Ci sono delle piccole novità Che andiamo A illustrarvi Piccole novità Ecco qua Questa è quella di Panetti Ragazzi Della Lora allargata Tra le altre cose Delle piccole Delle piccole modifiche Innanzitutto Questo logo qua Cambierà Ci sarà scritto sotto Lore Perché ci saranno Diciamo Dei macro gruppi Delle fazioni No fazioni Sembrano Sare da guerra Proprio diciamo Dei macro gruppi Contenenti Determinate Categorie Sì sì Determinate carte Questa invece È la versione Del Masella Masella orso Masella avrà due carte Questa è la versione Ostruosa Animalesca Quindi la beer Version Incredibile Per quanto mi riguarda Volevamo farla Olografica Il problema è che Non ci sta Quindi sarà una rara Quindi Prendete il pallino Cioè il numero Insomma c'è ancora Tutto da rivedere Però sappiamo Quante carte Effettivamente Oggi abbiamo fatto Tutti i conti 100 comuni 50 non comuni 25 rare 25 olografiche E la secret No no Non iniziare a scazzare Non è vero Ah Xunarima secret Non c'è Xunarima secret Te lo posso assicurare Ci siamo impegnati Per farlo Ma purtroppo L'azienda ha detto La carta è troppo importante Per stamparla Così a cuore leggero Comunque E tra le altre cose Per ogni pacchetto Avrete Una promo buy a box No No Tra Sì poi facciamo la jumbo In ogni pacchetto avete La stessa Dio madonna Abbiamo La stessa Avete la stessa Possibilità Sì 4 comuni 2 non comuni E una rara O Olografica A seconda di quanta fortuna avete La fortuna Percentuale è uguale 50% E i pacchetti Il prezzo non è ancora stato deciso Non parliamo di prezzo ancora Però Un prezzo No no Non parliamo di prezzo Però è un prezzo Però è economico Un po' disonesto Però è economico È economico Però se ne parlerà in questi giorni Però sappiate che è economico Sette carte No È economico È economico Che vuoi spoilerare che hai Non ce la fa Ce la puoi Io voglio haipare Non voglio spoilerare Sì ma aspetta Cioè dai dei dati Perché poi se lo dici ora Dopo ti massi Va bene però questi sono dati veri Questi Il prezzo Stiamo zitti perché non siamo ancora sicuri Comunque questa è la versione Masella Trasformata La versione normale ancora non c'è Ma non la vedete mai Ho chiesto all'illustratore Se ha voglia Di farne una versione tatuabile Cioè nel senso Una versione Full immagine Magari in bianco e nero Con dei dettagli Aggiuntivi O togliere Dei determinate cose Per potermela stampare Sul corpo Tra le altre cose ragazzi Sto cercando Ma non è Scusami Perché in latino Ho la descrizione Questa è una domanda vera Che ci hanno fatto Il gruppo Telegram Questa ovviamente È una descrizione Placeholder Tra l'altro Sto cercando ragazzi Di ottenere Un effetto simil Cosmolo Vediamo se c'è la possibilità Si spera Ora il Cosmolo preciso Non credo Anche perché le carte Pokémon Le stampano a Seattle Quindi non credo Che si possa avere Il rotolone Del Cosmolo Del Cosmolo Da Seattle Però ragazzi La speranza è l'ultima a morire Nel caso Avremo un effetto Simile Con lo Swirl Con lo Swirl Con lo Swirl Con lo Swirl Poi PSA Eccetera Con fettiolo è bello Con fettiolo fa camore È troppo presente Vediamoci Farò un buyout Del prodotto Sul mercato Va bene Poi 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 Questa l'avete già vista Questa l'avevate già vista Questa non so se l'avete vista Ma ve la faccio vedere Questa è la carta di Agnese Questa probabilmente sarà Una delle olografiche Secondo me ci sta bene L'olografia Perché ci sta benissimo L'olografia qua Ma vuole dietro È la Dario Come Agnese mi vede Sfondo È la versione innamorata E no Poi con tutte quelle palline Stelline Aggiungescele veramente Non è male Come effetto olografico No infatti quello dicevo Ehm È un bel tasso 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 No perché è rimaneggiato Per non farlo stricare Questa è la versione Va perché Simone Sempre Oh ecco A questo Dobbiamo aprire Una parentesi Allucinante Allora ragazzi Sapete quanto io Sia appassionato Masella no Maseo no Io Sia Quanto io Sia appassionato Di carte Con la plastilina Ma sono Felicia che quando Vengono realizzate Carte in 3D Belle Noi abbiamo fatto Jackpot Perché con Solar Fenice O Solar Fenice Abbiamo trovato Un ragazzo Che fa Modelli in 3D Che simulano L'effetto plastilina Infatti questa Non è una carta Realizzata con la plastilina Ma è un modello 3D Una cosa Laggiù per il tubo Però Passate Secondo me È più bella Di Giuperito È veramente incredibile Mi fa Il concetto Però Riesco Apprezzarne La qualità E l'originalità Com'è stupendo E Sta facendo Il nostro Amico Sta già realizzando Un'altra carta Che lui è carichissimo Ma sono tutti carichissimi Sono tutti molto carichi E non avete idea Di Vabbè Non avete idea Ragazzi Ci sono stili Per ogni Per ogni cosa E secondo me Sta realizzando Uno dei personaggi Migliori Per il suo stile Comunque lui farà Tutti i personaggi Perfetti Per il suo stile Ragazzi Non avrete Ah sì Questa è la carta La Tomodachi Vabbè Ma questa Questa Si era già vista Mille volte Anche questa Da rifarla un po' Però questa È la La carta Della Tomodachi crew Tra l'altro Un piccolo appunto Tomodachi Però No no Non si fa Non si fa Nessun altro spoiler Questo è android No Occhio ma Stai Pronta Quasi pronta Ma come ha fatto Emilia Vedere Vedere Come cazzo ha fatto Ma in 5 minuti C'ha messo Adoro Sì sì E ganz Molto bellina Tra l'ho detto Veniva meglio Con quest'osa Sì Poi vabbè Così ci sta Taglierei solamente Sto bello Che è un po' Un po' Blungo Però per il resto Blungo Sì sì Quello ci penso io poi Buono No non ve la mostro ragazzi Lui è perfetto Per questi personaggi È incredibile Ma poi tutti i trattini Veramente Stanno a sfornare Ma io Non faccio un tempo A commissionare Cosa che hanno già finito Meglio così Dario ma se già più o meno Quando usciranno le carte Io ipotizzo quest'autunno Dario ma la carta Valentina Nappi Sarà pegghi 18 No Non penso Le carte saranno stampate In tempo limitato O stampate a ruota Questa è una bella domanda Non lo sappiamo ancora Tempo limitato E all'infinito Alla lasagna Ok Tempo limitato Dario non farlo Un mio amico ha due conigli E la vive senza internet Vabbè Questa è anche una mezza citazione A Marco Dario ci sarà la carta Della roccia nella casa? No Non citiamo meme Di un giorno ragazzi Ma non ha sezzo Sono carte universali Che vanno bene Ora E fra due anni A meno che qualcuno Non venga bannato Daniele c'è Sì c'è due versioni Tra l'altro Daniele Dario ma saranno Carte fisiche da comprare? No Sono di vapore No 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 Nel senso che sono Carte digitali Come Airstone ragazzi Voi potrete comprare Dei packaging Come su FIFA Dove potrete spendere Infiniti soldi Per gamblare E trovare delle cartine Gamblare Che sono dei beat E poi Filarvele su Per il culo Saluto Allie Comunque Sempre Poi fai un account false Su ebay E le vendi tutte E poi Sovrapprezzate Nessun account false Dirò che sono io Ah ok A quel punto Ve le venderò Con un sovrapprezzo Del 50% No non sono commestibili Io ho scelto tutti gli artisti Sì Sì Abbiamo una rosa di artisti Secondo me Incredibile Emergenti Ma notevoli Non solo anche Non solo C'è un professionista Grossissimo E poi due professionisti C'è Nicola Che C'è lei Tra tre professionisti Allora C'è professionisti Nel senso che Sono già Sono molto avviati E poi c'è Nicola Che invece È già avviato Da tanti anni Lavora con Blizz Però ci concede Una carta Perché Ha firmato Con tutto il mondo Giustamente Ha contratti di esclusività E però Ha detto ci vuole essere Come ho detto all'inizio Si è abbassato Lo stipendio Per andare al pari Di tutti gli altri artisti Emergenti Quindi Non posso dire Quanto prende con Blizzard Ma Sappiate che Il taglio che ha fatto È Demenziale Quasi Insomma È assurdo Del Vabbè Non vi dirò No è impossibile Ragazzi Non avete idea Non avete idea Però insomma È stato un bel gesto Dario questo è solo il set base Vero? Ragazzi Non lo sappiamo Nel senso I soggetti Essenzialmente sta a voi Nel senso che Non vuole essere Una spinta Ma è oggettivo Il fatto che Se il prodotto Carte Ha successo Allora sicuramente Uno può pensare Di investire Espandere un pochino Anche perché comunque A differenza delle felpe Che comunque vanno in preordine Quindi uno ha un'idea Di quel che succederà Le carte Le carte Le carte Comunque ci deve essere Un investimento Molto importante A monte Quindi ovviamente Se le carte Poi non funzionano O Vai anche soltanto In pari Non è Non è un qualcosa Poi da portare avanti Se invece La roba funziona E A quel punto Te Puoi pensare Di fare successive Espansioni O magari Tipologie di prodotti Similari Integrarle Fare mille cose L'idea è che Se va bene 200 soggetti Ragazzi sono Tanti Cioè coprono Tanta roba E Sono robe Come ho detto prima Perché Per volere mio Proprio Anche abbastanza Come posso dire Per Una mia scelta Abbastanza forte Ho deciso di non Citare meme Di non Citare Per esempio Se c'è Paolo Cannone Non gli si fa La maglietta Con scritto 22 Perché È una roba Che non voglio Che sia meme Voglio una cosa Bella Da collezionare Tipo enciclopedia Che non è solo La lord di Dario Mocia Ma che diventi Magari anche Un bel Un bel Un bel Una bella Memorabilia Sui twitcher Che seguite Tanto Twitcher è non solo Twitcher è non solo Di tutto E E quindi ho voluto Fare questa cosa qua E poi è un prodotto Che Ci sono delle cartolografiche La qualità di stampa È buona Le dimensioni sono quelle Di Magic La qualità La grammatura È quella identica Di Magic Quindi non avete Le carte sottilette E si imbarcano Solo a guardarle C'è la grammatura Proprio esatta Di Magic Quello bisognerà vedere Poi il discorso Olografico Cosa riescono a tirare fuori Una olografia non presente Quella è un Non presente Un'opera più delicata L'olografia A livello artistico Stanno venendo fuori Delle robe A livello artistico Funzionano tantissimo Le carte di layout Sono belline da vedere Perché danno tanto spazio Alla tua Discrizioni Sono utilizzate anche La gadgettistica esterna Quindi le sleeve Le perfect size Uno può usare gli album Finché magari uno decide Di fare un album personalizzato L'idea c'è di fare un album Pensaci più avanti Sì 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 Però ecco Le premesse sono ottime Dal punto di vista Imprenditoriale Intendo Cioè che È un investimento Importante Però su un prodotto Che viene fuori Una figata incredibile La risposta Vediamo Vediamo Cioè Tempo di fare un'espansione Faccio un esempio Da 100 carte Magari Dedicata Degli eventi Particolari Oppure Che cazzo ne so io C'è C'è Però Raga Intanto si fa questo Ci sono i personaggi base E versioni alternative Per esempio Ci sarà anche Dash Cioè Che è stato Parte Del mio percorso In maniera indissolubile Quindi Si compreranno Su un sito apposito online Solo online Niente Edicola Non siamo il pubblico Cioè Non ci abbiamo il pubblico D'edicola Non è che il settantenne Il collezione Arciatori Oppure Il quarantenne Il collezione Magic Fa Vai sai osa Ora mi faccio la bella Lezioni di Dario Moccia Non funziona O di Twitch E Sì c'è ground C'è anche Fabio Terreni Certo E Quindi Quindi sì Assolutamente Ci sarà il fazone Cioè Tutte le persone Che hanno gravitato qui Sì Sicuramente Ragazzi 200 arte diverse C'entra di tutto Fastweb no Perché ci denunciano Il giorno dopo Non ci saranno marchi Non ci saranno Furbate Eccolo Zero Sicuramente mancherà Riso Pikachu Vi lascio intuire Il perché Insomma O manca la carta Pokémon Revolution Anche qua Vi lascio intuire Il perché Insomma ragazzi Sono robe Ci sarà orlando Ma devo mandagli La liberatoria Perché ragazzi Non è che si fa tutto Stiamo preparando documenti La devono firmare tutti Anche il Masseo Tutti So che è una rottura di coglioni Ma si rischia grosso Ecco se qualcuno Si fa girare i coglioni E ci denuncia È un problema Però ragazzi Non si può fare le ose Con le fattezze di Pikachu O Matt e Pokémon Ti arrestano Ti arrestano Sono carte Le figurine Non ci sono più Da di umano Una settimana Ma non è che per forza Tutti Non lo sapete tutto Sono 9000 Sono palesemente tutti 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 Guarda Cioè Qua si corrisponde Si c'è il numero di 7 E le rarità C'è il pallino Il rombino La stellina La stellina vuota Per le olo Ragazzi Vi ho fatto una robina Che cita Tanto si possono fare No Perché non è una roba Di Wizards O di Pokémon O che cazzo ne so io Sono simboli universali Della tastiera Non sono copyright Cioè di tutto Eccoli qui Questi sono simboli speciali Gli fa cambiare Cittazionistica Gli fa cambiare Gli fa cambiare anche il colore Ve li faccio vedere Secondo me Uno dei più belli È questo La croce Anche la croce La nota musicale Ma per cosa La nota musicale Pallino Eccolo lì Pallino Poi qui c'è la stellina E il rombetto No non è questo È questo qua Con la pochina storta Allora Quello delle Pokémon Era questo Un po' più stretto Però ho usato questo Che è quello di Harry Potter TCG Che era un po' più moderno Mi piace più questo È tipo Questo ci si mette Quello per le non comuni Questo è il mega Sì non comuni Questo è mega ultra raro Io farei la 201esima carta No sì così Così Una Agostino ti spara No 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 Una Se non metti Omi Si ammazza C'è Omi Anzi Eh Vabbè 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 Ve le grado E poi ve le rompete Carta perché oggi abbiamo Finito col back Cioè abbiamo il back Ufficiale Questo ve lo posso anche spoilerare Perché tanto È il back Quindi non è che ci sia Tanta Tanta roba da Da spoilerare Ve lo faccio vedere Eccolo qui La cosa neutra Senza particolari sfumature Abbiamo Ci siamo ispirati Abbiamo controllato ovviamente Vari back Di varie collezioni di carte Abbiamo controllato ovviamente Quelli di pokemon Quelli di magic Eccetera Abbiamo fatto una roba più moderna Seguendo ovviamente la politica Delle carte collezionabili E quindi secondo me Ci sta Ci sta Poi c'è anche un tocco magico Team Bartiano No volendo Quell'estetica lì Quindi ci sta Sì anche un po' Rayman Legends Un po' Rayman Sì assolutamente E poi Abbiamo sostituito una carta La seconda Quella di Dario Moccia Twitch Perché Come dicevo Credo Oggi pomeriggio Quella carta era frutto dell'inizio Ci sono tante carte frutte dell'inizio Anche secondo me L'unica che rimane Nel mezzo Non dico qual è Ma non so ancora Se voglio cambiarla o meno Penso di no Comunque Però quella era da cambiare Perché era una Un'illustrazione riciclata Di Simone Di quando ha fatto la sigla Quindi l'abbiamo un po' rimaneggiata E facciamo un po' cacare Quindi abbiamo Cioè facciamo cacare Era carina ma non era A livello delle altre Perché gli artisti Si sono veramente Messi sotto No no Facciamo una bella tiratura Come che carte Questa è la seconda Per esempio Questa è quella che avete già visto E rifatta La seconda Quella dedicata a Twitch Qua c'è La descrizione Questa è una definitiva Questa andrà proprio in stampa La rarità Pallino comune Rombo non comune Stella rara Stella vuota Cioè vuota all'interno E sarà l'aolografico L'aolografico Le descrizione Le descrizioni Le scrivo tutte io Questo è l'illustratore E poi il copyright Basta E il nome della carta Ovviamente Ah e questo ovviamente È il logo del set Ma basta fare marketing Puoi andare Ci saranno i box Da 36 bustine 36 pacchetti Sì 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 Cioè poi bustine Pacchetti Sì 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 Grazie a tutti